cari utenti finanza online benvenuti a questo nuovo appuntamento con il live meeting di finanza online oggi è con noi l venture group holding di partecipazione che opera nel venture capital a livello internazionale a presentare le novità di l venture group è con noi l'amministratore legato Luigi Capello a caldo dottor Capello un'impressione su questo live meeting me direi molto molto interessante è durato un paio d'ore nel quale abbiamo risposto tutta una serie di domande possiamo dire domande che venivano da destra e da sinistra insomma domande di grande curiosità ricordo che noi siamo una holding di partecipazione dove abbiamo partecipazioni in 40 start up per cui spiegare talvolta il nostro business non è molto facile ma insomma penso che con tutte queste domande arrivate sono stati chiariti molti nostri aspetti. Gli ritenete soddisfatti da questo primo vostro live meeting? Assolutamente sì ci torniamo direi molto soddisfatti abbiamo notato grande curiosità per cui vuol dire che da parte nostra soddisfazione da parte del pubblico grande interesse. Ecco quali sono le domande che vi hanno colpito di più? Ma ne abbiamo avute direi alcune molto interessanti insomma abbiamo ricordato la principale direi forse quella sintetica perché investire su di noi perché abbiamo ricordato un pochino questi vantaggi sicuramente diciamo ricordiamo che siamo l'unico operatore quotato su un mercato principale siamo in un settore ad alto rischio per cui investendo su di noi si diversifica per cui si ha un derisking della nostra attività e ricordiamo infine che chi investe su di noi durante il prossimo aumento di capitale potrà beneficiare di un credito di imposto del 19% per le persone fisiche che equipara l'investimento in aumento di capitale nell'avventure group a quello delle start up per cui tutti questi elementi diciamo tutte queste domande sono quelle che sono state più interessanti per noi. L'avventure group è una holding di partecipazioni come vi differenziate dalle altre società del settore? L'avventure group principalmente diciamo si differenzia rispetto ai nostri competitor perché uno è quotata sul mercato principale e sull'MTA e secondo noi abbiamo tutta una filiera che va dalla creazione della start up, abbiamo un programma di accelerazione e abbiamo tutta una pipeline finanziaria che porta queste nostre start up che creiamo verso l'exit per cui pensiamo di poter avere degli importantissimi valori proprio dati da questi bassi valori di ingresso e ci attendiamo enormi valori di uscita. Dottor Capello la ringrazio e ringrazio anche tutti coloro che hanno partecipato a questo live meeting e rinnovo l'appuntamento al prossimo live meeting. Grazie molto, grazie a tutti voi. Grazie a tutti.